Il calcio opantino si regala una domenica di grandi soddisfazioni con entrambe le squadre della città di Cerignola che hanno vinto. Nel campionato di prima categoria la formazione dell'audace Cerignola guidata da Massimo Gallo ha vinto in trasferta contro il Margherita di Savoia per 3-0, portandosi così in classifica a punteggio pieno e in fuga solitaria e consolidando la leadership del torneo. Stessa cosa anche nel campionato di seconda categoria con la sportomania Cerignola guidata da Michele Schiavone che raggiunge il sesto successo consecutivo battendo in casa al campo cercata al rione Torricelli il Troia con il punteggio di 4-0.